Quando cade un sindaco, in particolare quando cade un sindaco di comune capoluogo e tra l'altro cade anche per mano di alcuni consiglieri eletti nella sua maggioranza, è sempre una brutta pagina per la politica, è un pessimo segnale che si dà alla comunità locale e quindi un colpo alla politica in generale. Io credo che i suicidi collettivi bisogna sempre cercare di evitarli. Consiglieri di centrodestra che alcuni hanno fatto cadere il sindaco Brucchi, questo cosa vuol dire? Che all'interno del centrodestra a Teramo ci sono evidentemente dei problemi? Beh, è indubitabile che esistano dei problemi. Sono i consiglieri di una lista civica per la verità, quindi non è un problema proprio direttamente di Forza Italia, anche se è una lista civica che fa capo a un consigliere regionale di Forza Italia. Hanno deciso di staccare la spina ad un sindaco che hanno sostenuto per otto anni e mezzo, una lista che comunque ha fatto parte dell'esecutivo comunale con vari esponenti, con vari componenti e con tanti consiglieri comunali. Ora che vi siano dei mal di pancia, diciamo così, dei problemi interni alla maggioranza a Teramo non è una novità e che ci fossero delle difficoltà già a prescindere da questi consiglieri comunali perché altri già negli anni passati e nei mesi passati avevano tolto, diciamo così, la fiducia al sindaco Brucchi. Sta a significare che evidentemente un malessere c'era all'interno di quell'amministrazione comunale. Io però dalle cose che ho sentito non ho percepito questioni di natura squisitamente politica, ma più nella incapacità di tenere in piedi una maggioranza, questa cosa onestamente è sempre molto difficile non solo a Teramo ma in generale in tutte le amministrazioni perché laddove esistono tanti gruppi civici e i partiti politici hanno meno peso di un tempo, è chiaro che gli individualismi spesso prevalgono e quindi le regole di una politica secondo schemi tradizionali purtroppo non esistono più.